Ciao, benvenuto in questo nuovo video post dedicato al controllo emotivo, ossia alla pretesa che la nostra parte razionale, quella calcolatrice, quella che tende ad organizzare il nostro mondo virtuale sulla parte invece più emotiva. Quindi questa è una pretesa vera e propria perché le due parti con cui noi affrontiamo la vita e con cui noi ci confrontiamo giorno per giorno devono assolutamente essere bilanciate e non devono prendere né una sull'altra il sopravvento, anche se questa divisione è puramente mentale, è una percezione virtuale della realtà, questa divisione in razionale ed emotivo e per cui quando noi ci sentiamo divisi da questo punto di vista percepiamo la realtà in maniera duale, in maniera divisa. Sono due aspetti, quello razionale e quello emotivo, della stessa identica realtà virtuale, realtà creata, ma percepiti come ci si sente creatura, cioè da creatura, noi vediamo questa divisione. Se invece ci si mette nella prospettiva, che non è proprio una prospettiva, anzi non ci sono prospettive, che è quella dell'essere profondo, nella direzione dell'essere profondo, noi ci rendiamo conto che questa divisione è puramente illusoria. Ci è stata funzionale affinché capissimo il processo di divisione, di percezione divisa della realtà. Ci è stato funzionale perché dovevamo anche esplorare questa virtualità anche dal punto di vista della creatura. Ci siamo immedesimati quindi nel personaggio del gioco, nel ruolo che ci siamo voluti assegnare, nella pedina che noi stessi stiamo manovrando. A quel punto, nella prospettiva della pedina, la pedina che vive di per sé in realtà divisa, perché si sente divisa dal suo creatore, dalla volontà, organizza il suo mondo in base alle regole del gioco e questo l'abbiamo visto diverse volte in base ai ruoli e quindi si gerarchizza eccetera eccetera. In questa realtà la parte nostra razionale dominante, che praticamente gestisce questa virtualità, tende ad avere il sopravvento su ciò che è la nostra parte incontrollabile. Solo che siccome questa divisione è fittizia, tutte le due parti sono legate a se stesse, cioè nel momento in cui faccio qualcosa, provo un'emozione. Nel momento in cui organizzo qualcosa, gestisco qualcosa, razionalizzo qualcosa, scatta comunque l'emozione. La pretesa del controllo sull'emozione è una pretesa organizzativa da parte della nostra parte razionale, perché dice effettivamente dal punto di vista sociale, se diamo sfogo alle nostre emozioni, ci troviamo in una condizione di non poterle gestire e quindi queste vanno controllate, vanno soffocate. Tutto ciò che dell'emotività non riesce a fluire diventa la nostra ombra. Ora, a questo punto ci si chiede, ma è possibile che ci sono delle emozioni che si possono controllare? Ci sono delle emozioni che si possono controllare quando noi praticamente ci troviamo nella condizione di fingere. Se fingiamo un'emozione, noi ci troviamo nella condizione di essere coloro che hanno controllato l'emozione. Noi cerchiamo di dominare le nostre emozioni, di fingerle e a questo punto le facciamo rientrare in quello che noi riteniamo uno schema sociale, che è il nostro tavolo di gioco. Ma che cosa succede? In questo modo non si attua il cosiddetto processo di individuazione, cioè la parte emotiva è una parte che ha necessità di fluire perché effettivamente l'emozione è una forma di energia creativa che ha necessità di essere direzionata, di essere veicolata. E quindi che cosa succede? Che nel momento in cui la si reprime in qualche modo si andrà ad esprimere, magari somatoizzandosi, magari con malattie. Qual è il punto che io voglio sottolineare? Che in questa visione è parcellizzata della realtà in cui c'è la pretesa di controllare una parte sull'altra e magari poi quando fluisce prepotentemente la parte emotiva inconscia, quella che abbiamo nascosto, quando riesce a fluire e diventa devastante perché quella parte, avendo subito tutta quella repressione, ha accumulato energia creativa che diventa prepotentemente distruttiva. Perché distruttiva? Perché tutto ciò che costruisce la razionalità lo delimita in una zona di comfort, che è la zona di comfort sociale, la zona del gruppo. Quindi la razionalità rappresenta l'organizzazione collettiva della nostra realtà, mentre la parte emotiva rappresenta invece il modo di essere individuale. Fingendo noi reprimiamo emozioni e quindi distruggiamo sempre di più la possibilità che abbiamo in noi di far emergere quello che è la nostra realtà reale. Cioè il nostro essere profondo. Ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!